salve a tutti salve a tutti buonanotte vista allora oltre mezzanotte buongiorno per chi vedrà questo video o domenica o addirittura lunedì insomma quando vedrete il video video ovviamente dedicato alla vittoria di yannick sinner in semifinale contro rublev in quel di vienna sinner che raggiunge la finale con daniel medvedev si ripropone quello scontro che qualche settimana fa tre o quattro settimane fa ora potrei sbagliare ma insomma non si va oltre le quattro settimane fa visto sinner vincere per la prima volta contro contro daniel la finale di pechino quindi poi c'è stato shanghai poi c'è stato la settimana di tokyo tre settimane fa che dire intanto di iscrivervi al canale lasciare like al video attivare la campanella per avere tutte le notifiche andare sul sito del fanta tennis sta cominciando l'ultima settimana di stagione regolare quindi l'ultima chance per anche i nuovi arrivati di prendere familiarità con un gioco che poi l'anno prossimo diventerà interessante anche a livello di monte premi per il monte premi e per tutto quello che riguarderà l'edizione 2024 ci sarà una diretta speciale una diretta fatta dopo le finals ci sarà la diretta del sorteggio delle final ma la spiegazione del fanta tennis 2024 avverrà nei primi giorni di dicembre quindi verso la nuova stagione che vi ricordo parte il 31 dicembre quindi si ritorna con il fanta tennis si sta poco più di un mese senza fanta tennis poi si riparte e quindi andate sul sito www.fanta tennis.net andate scaricatevi il regolamento scaricatevi il prospetto il calendario che è un file excel o pdf per capire il il devolgersi del del gioco nella prossima stagione torniamo a parlare di cine dopo aver fatto la dovuta pubblicità al gioco si der bene dai ragazzi bene si il solito problema chiudere sette break avanti che si fa controbreccare è anche vero che nel primo set ha recuperato un break di svantaggio una situazione di 52 infilando 5 che in consecutivi io direi che i progressi di sinner in tutto nella tenuta mentale nella tenuta fisica nel nel gioco di volo nella pressione che mette agli avversari cioè rubleva un certo punto sembrava non riuscire a capire come fare il punto ha scagliato 45 volte la racchetta a terra perché fare il punto a questo gli anni che è veramente un'impresa che può riuscire a questo punto a pochi eletti a quei tre a quei tre davanti mervede per gioco vici al carazzo poi sinner è nel gota di questi quattro ed è tanta roba ora poi da qui a dire che bisogna vincere bisogna vincere mille e slam evidentemente io credo per come ho scritto anche in qualche altro commento che a livello di preparazione fisica si ne sfrutterà al massimo l'off season cioè finita la settimana di malaga finita la settimana di davis a cui lui tiene e non tiene nel senso che se si dovesse rendere conto che i suoi coetanei e concittadini non dovessero vincere nemmeno un singolare certamente sinner non non vorrà giocare singolare doppio e spremersi come un limone per portare l'italia in finale di davis lui giocherà i suoi tre singolari se bastano bene tra l'altro in uno se dovesse passare la serbia nei confronti della gran betagna dovrebbe trovare gioco vici gioco vici che potrebbe essere l'avversario in semifinale a bercy è l'avversario anche nei gironcini delle finance quindi potremmo avere teoricamente tre scontri con nova gioco vici nel giro di tre settimane tanta tanta roba di quattro settimane scusate perché tra parigi e le final c'è una settimana di 250 che speriamo non siano decisivi per per la qualificazione le final perché sarebbe veramente brutto se un 250 a stagione praticamente finita dovesse decidere l'ottavo posto per le atp final oltre che problematico per il mio fatta tennis quindi spero che tutto sia deciso abbastanza prima ripeto io vedo sinner che migliora settimana come il vino migliora settimana dopo settimana avete un giocatore che quattro mesi fa come si presentava a rete non sapeva rimandare la palla di e che adesso ti fa delle volei delle volei in pancia salva dei colpi a rete ha ancora ovviamente lui a me piace perché lui parla sempre di miglioramenti c'è la cosa che mi fa sperare che sinner possa raggiungere veramente obiettivi importanti è che perdeva sempre da zizi pass batte zizi pass ma non si accontenta di battere zizi pass dice bisogna migliorare è uno dei pochi ad aver battuto quattro volte al karat e batte al karat a pechino e non basta bisogna migliorare aveva sempre perso 6 0 contro medvedev batte medvedev a qualsiasi altro tenista italiano sarebbe stato champagne bella vita ho raggiunto il massimo sono top 4 e lui anche quando ha battuto medvedev ha parlato di ha parlato più di quello che non è andato in quella partita di quello che è andato in quella partita e questa è una cosa che non è una mentalità scusate il termine sinner è italiano perché è nato in italia ed è italianissimo ma fortunatamente per noi la mentalità tedesca nel senso che io lo vedo nel paio a siena abbiamo un fantino che è sardo tedesco e che non si accontenta mai sono fatti in questo modo loro sono programmati per raggiungere il top chi ha quella mentalità lì non si ferma non si accontenta vinco una volta vinco 2 vinco 3 vinco 4 vinco 5 non è che la sesta volta vabbè ne ho vinto i cinque questa volta posso perdere no devo trovare il modo di vincere ancora e sinner è stessa cosa sinner batto medvedev non basta devo guardare quello che quello che non ho fatto di bene in quella partita per poterlo battere meglio la prossima volta e la prossima volta è appunto tra poche ore speriamo che faccia addirittura meglio della volta prima io mi accontenterei anche che vincesse insomma però capite c'è la cosa che mi fa mentre su quasi tutti gli italiani se fondini è entrato in top ten vi faccio un esempio carriera finita raggiunto l'obiettivo ok nella vita sognavo di entrare top ten diventa 9 al mondo ce l'ho fatta e questo è top ten a 22 anni ma non gli basta essere quattro al mondo questo sta lavorando per diventare il numero uno per vincere islema cioè non è uno che se domani batte medvedev ma fa un doppio fallo sul match point ti dirà che si ho battuto medvedev però quel doppio fallo sul match point non va bene lo devo migliorare come sempre fatto perché lui è partito che perdeva sempre da zizi passi ha battuto zizi passi e ha parlato di miglioramenti ha battuto alcalac e ha parlato di miglioramenti ve l'ho detto prima ha battuto medvedev ha parlato di miglioramenti oggi ha battuto rubel per la quarta volta su quattro partite finite perché rubel con sinner quando la partita è finita ha sempre perso e nonostante tutto si parla di dover migliorare quindi è un è un continuo cercare di migliorare se stessi cosa che purtroppo da 40 anni a questa parte gli altri giocatori italici non hanno avuto cioè gli altri giocatori entrati in top 20 i vari gaudenzi non hanno mai sfondato che gaudenzi era molto simile a si allenava con booster quindi poteva aver preso qualcosa da da eppure no questo è una macchina programmata per arrivare al top state tranquilli che al top ci arriva perché questo ha la mentalità teutonica di quello che deve arrivare a sfondare non è un caso che in germania abbiano ogni generazione un tennista nei top ten noi l'abbiamo avuto noi ora li abbiamo abbiamo sinner abbiamo avuto berrettina abbiamo avuto foglini ma abbiamo dovuto aspettare 40 anni per avere un giocatore in top ten loro ci fanno però su ogni generazione gli ha fatto almeno un top ten se non due quando c'era becchere stick però ecco almeno una generazione di tedeschi da da quando la germania e germania unita hanno avuto almeno un tedesco dei top ten e almeno un tedesco competitivo per vincere tornei importanti insomma capite che è una mentalità diversa dalla nostra ed è una mentalità che nello sport è fondamentale nelle nelle attività sportive è fondamentale non si accontenta mai sindone questa è la cosa che mi che mi che mi fa sperare e che mi fa dire che questo ragazzo arriverà molto più in alto di dove è già altissimo perché c'è stata un po di la discussione su facebook se è il migliore il migliore italiano di sempre per me sì è vero che io sono contrarissimo a dichiarare il migliore di sempre lo sport perché è vero che le epoche sono diverse cioè dire chi è migliore tra gioco vici e sampras si parla di un'epoca dove sampras a 32 anni è vecchio gioco vici a 34 vince l'islam perché la carriera con gli studi medici con la medicina si è allungata al punto che a 34 jimmy donalds nel 93 a 34 anni al quinto sette lo chiamavano il vecchietto adesso a 34 anni gioco vince vince l'islam quindi capite che in 30 anni la situazione del della carriera sportiva si è allungata molto di più e quindi non puoi fare un paragone su chi è il migliore ma a livello italia negli ultimi 40 anni non c'è corsa questo è assolutamente il tennista più forte post paratta tutti che abbiamo in italia ma senza alcun dubbio è l'unico che poteva reggere se non si fosse infortunato e non si fosse non si fosse non avesse avuto la sfortuna che ha avuto l'unico che poteva fare una carriera la sidera e la omar camporese il resto ragazzi cioè i vari sanguinetti io con tutto il rispetto io sono sono cresciuto con i vari furlan sanguinetti narciso gaudenzi e gaudenzi non era non era dei peggio santo padre pesco solido di pesco solido ricordo un incontro di coppa davis a madrid dove secondo il terzo sete dette 6 1 6 0 a brughera poi però si spense la luce e perse la partita al quinto però ecco sinner questi li batte con la benda e gli fa anche servire una volta in più diceva le partite 2 a 0 voi io comincio a giocare quando voi state 2 a 0 e vinco io perché di gran lunga il più forte tennista italiano degli ultimi 40 anni ma ma non è che questa è una cosa che puoi dire perché i risultati sono abissalmente a favore di sinner cioè mentre di là si può stabilire se tre quattro anni di carriera a sampras gli avrebbero fatto vincere qualche wimbledon in più e quindi magari poteva essere davanti a gioco vicene nei wimbledon vinti davanti a federe nei wimbledon vinti noi siamo passati dal nulla cosmico ad avere il quattro al mondo e diventare quattro al mondo 30 anni fa aveva la stessa difficoltà che diventare quattro al mondo adesso perché è vero che ora c'è la tecnologia ma la tecnologia gli allenamenti i coach ci sono per tutti quindi non è che è migliorata la situazione sulla sinner è migliorata a sinner ai concorrenti di sinner cosa che prima i concorrenti di ripeto camporese ci poteva arrivare se non aveva avuto sfortuna ma i concorrenti di furlan di sanguinetti di narciso non avevano avevano magari una federazione meno forte perché questa è una federazione un po più forte questo magari ha aiutato sinner un pochino di più rispetto agli altri però c'è veramente un abisso di differenza come si fa a non dire che sinner è il miglior tendista italiano degli ultimi 40 anni cioè io lo chiedo anche a voi secondo me non c'è corsa cioè io chi dice che ma ma da post panatta ragazzi chi deve essere il giocatore più forte post panatta si può discutere se fognini in forma se berrettini in forma ma non ma non arrivano a questo forse berrettini del 2021 a wimble non può battere questo sinner ma a wimble non lo può battere in qualsiasi altra superficie vince vince jannik perché ha una risposta a un gioco più completo il rovescio di di matteo che tra l'altro notizia del giorno si è separato dal santo padre quindi non sappiamo con chi matteo affronterà la nuova stagione speriamo che ovviamente a matteo auguriamo tutte le migliori fortune e auguriamo che possa trovare un super coach che lo porti dove merita perché matteo è un giocatore che a questi livelli sta tranquillamente in top ten cioè se c'è alune se c'è zizi pass se c'è zerev ci può stare tranquillamente anche il miglior matteo berrettini è chiaro che ci vuole il fisico bisogna tornare il berrettini del 2021 bisogna avere i non bisogna non avere gli infortuni che ha avuto matteo quindi a matteo auguriamo per il 2024 come a tutti gli altri italiani il meglio del meglio del però ragazzi qua siamo consider siamo di fronte a un mostro perché insomma subire contro black servi per il match subisci contro black vai al tie break e vai sotto di un mini break nel tie break non solo non perdi il tie break ma lo vinci con l'altro che per disperazione fa doppio fallo perché non sa più come farti il punto impressionante impressionante davvero domani è partita difficile perché con me vedeva per il gioco che a me vedeva sono tutte difficili silver sa come si fa perché l'ho già fatto è una partita che chiaramente si deciderà su pochi punti sulle sulle poche chance che avranno l'uno e l'altro bisogna vedere chi le sfrutta di più speriamo che si ci faccia vedere una gran bella partita e ci faccia soprattutto divertire abbiamo la consapevolezza di avere un mostro in casa e godiamocelo prepariamoci a un 2024 che secondo me sarà veramente veramente molto divertente forza jannik per domani io vi aspetto domani sera dopo la partita di sinner per commentare comunque vada un giocatore che con questa vittoria con la vittoria contro rublev non è che metta in casa forte il quarto posto perché c'è ancora versi ma insomma ma insomma abbattuto il diretto concorrente per il quarto posto gli ha mangiato minimo 120 punti se vince domani ne mangia 320 e insomma se cominci a avere 7 700 punti di vantaggio vuol dire costringere costringere rublev per passarti a vincere parigi non è poco ciao a tutti e a domani